il treno regionale 23 9 0 8 di ferrovia adriatico san gritana delle ore 5 e 57 proveniente da lanciano è in arrivo al binario 5 attenzione allontanarsi dalla linea gialla il treno regionale 23 9 0 8 di tren italia delle ore 6 per teramo è in partenza dal binario 5 ferma in tutte le stazioni il treno regionale 23 9 1 4 di ferrovia adriatico san gritana proveniente da lanciano è diretto a pescara centrale delle ore 6 e 25 è in arrivo al binario 5 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma in tutte le stazioni il treno regionale 23 9 2 6 di ferrovia adriatico san gritana proveniente da lanciano è diretto a san benedetto del tronto delle ore 11 03 è in arrivo al binario 5 attenzione il treno regionale 23 9 0 6 di ferrovia adriatico san gritana delle ore 5 e 15 proveniente da termoli è in arrivo al binario 5 attenzione allontanarsi dalla linea gialla il treno regionale 23 9 1 2 di ferrovia adriatico san gritana proveniente da basto san salvo è diretto a pescara centrale delle ore 7 e 36 è in arrivo al binario 5 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma ortona tollo canosa san nita franca villa al mare pescara tribunale pescara porta nuova il treno regionale 23 9 0 0 6 di ferrovia adriatico san gritana proveniente da termoli e diretto a pescara centrale delle ore 5 e 16 è in arrivo al binario 5 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma ortona franca villa al mare pescara porta nuova il treno regionale 23 9 0 0 6 di ferrovia adriatico san gritana proveniente da pescara è diretto a vasto san salvo delle ore 6 e 30 è in arrivo al binario 5 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma fossacesi a torino di sangro casal bordino pollutri porto di vasto il treno regionale 23 9 2 6 di ferrovia adriatico san gritana delle ore 11 03 per san benedetto del tronto è in partenza dal binario 5 ferma ortona tollo canosa san nita franca villa al mare pescara tribunale pescara porta nuova pescara centrale monte silvano silvi pineto atri scerne di pineto rosetto degli abruzzi giulianova tortoreto alba adriatico nareto porto d'ascoli il treno regionale 23 9 55 di ferrovia adriatico san gritana delle ore 20 e 41 proveniente da san benedetto del tronto è in arrivo al binario 5 attenzione allontanarsi dalla linea gialla